Oh mio signore, in questo mondo, io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio signore, io ti ringrazio, in ogni cosa che ho avuto, grazie per tutto quello che hai fatto per me, per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani, lei ritorni da me. Oh mio signore, in questo mondo, io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani, lei ritorni da me. Fa che domani, fa che domani, lei ritorni da me. Lei ritorni da me. Lei ritorni, lei ritorni da me. Lei ritorni, lei ritorni, lei marco toglie i tuoi valori da me. Grazie, è per tutto. Grazie.